Anche 9 Bianchi da 09, siamo sotto in gaggio il fuoco da RPC Da Nord-Ovest rispetto alla nostra posizione 09-Alpha Ho ricevuto... Direzione 042, stanno venendo a piedi una battuglia Da sinistra del porte In gaggio In gaggio, in gaggio A sinistra del porte A sinistra del porte Guardate 043 Io sono davanti al ponte ma non li vedo Stanno sulla tua sinistra Io sto dietro la casa all'angolo e l'ho visti Ma non so se l'ho tirato giù o se è fermato Come regola la gomi si è portata lì per scendere per noi Drip Drip Guarda davanti a terra Drip davanti a terra Mettiti sopra la mia testa In piedi, sopra di me Ok, avanza ancora un po' Sem, il minimista dove gradisci che lo mettiamo? All'angolo del muro di cinta? Se venite qua davanti al ponte c'è Ci sono due case e è abbastanza protetto Una dove sono io e anche dall'altra parte della strada c'è protezione Ok, metti l'actual mappa ed arriviamo Anche pollo con me Vedi, di fianco alla stella in mappa Arriva una tecnica Direzione Di fronte alla strada Arriviamo, siamo dietro l'inch Un pollo grigio, un pollo grigio Ok, c'è una tecnica Un pollo grigio, un pollo grigio Pollo, metti l'inchilocchio sopra di me Pollo, metti l'inchilocchio sopra di me Chi è che stava guidando? Trippo, giusto? Sono fermato Trippo, vieni avanti dove ha messo il mezzo il capo brutone Ti metti più avanti e lo chiamo la strada Messo l'isca di pesce come lui, di fianco ma a coprire l'altro C'è un pollo grigio Bianchi da per 9 Oh boh, ottimo Bianchi da per 9 Bianchi da per 9 Il nostro veicolo per problemi tecnici è sparito Rimanco nel mezzo interlocutivo Sì, sì, rimane nel mezzo Beh, l'aerallista sicuro Te autista puoi anche scendere Basta che ti metti dietro il mezzo, la copertura Dai una mano Il comando sta inviando un linch Com'è qui la situazione? Si riesce a sparare? Eh, non so se ci abbono queste finestre Vado a provare a buttarle giù No No Non so se ci... Oh crim Perfetto Quindi direi che da qua si può sparare Se volete mettere qua con il capitano Adesso vediamo Un po' più coperto M davanti Capitano Vieni, vieni, vieni Io sto a sinistra della casa matta E giù Tango, tango giù nel fiume Ah va Tango giù nel fiume, giù nel fiume Non lo vedo E' qua a destra, eccolo lì Direzione 026 026 Sempre un altro che saliva lì Fatto Dove è tango che vi saliva la notazione? Ok, mettiti in piedi dietro a pollo, pollo, non ti alzare finché... In piedi, in piedi In piedi, in piedi In piedi, in piedi In piedi, oh crim Esatto, non ti alzare se no ti spara in testa, oh crim Molto benissimo 029, 400 metri Dietro la tenda? 029 Sì, sì, sulla strada Confermo sulla strada, tango Anche sulla strada Sì, 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 sulla strada Via a sinistra, di fianco alla pianta Direzione 27, dietro alla pianta Sì, sulla strada Sì, 034 034 Abbattuto, abbattuto, abbattuto C'è stare Ah sì Se questo... vuoi la... Sniper 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 Ok, lo vedo Non ho scarico È andato, è andato È andato, c'è chi non è andato Chi è scarico? Minimista, sono a posto Non so se le ralle sono già scariche No, no, no No, 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 io il minimista è lo scarico Minimista è il minimista mio C'è del Fumo Prova A 342 No, negativo Aspetta Entra dentro casa Entra dentro casa Qui? L'esposta di un pochino? Il Fumo Anche il Fumo è a 025 342 Sì, a 025 lo vedo A 342 no